Prima di tutto vorrei sapere chi ha perso questo orologio che era qua dietro? Una ragazza, grazie per la ragazza, sono vecchi oltre. Allora, io rapidamente mi raccordo un attimo con quello che è stato il senso della relazione di Antonello Brunetti. Che è un concetto che, insomma, sicuramente forse non è tanto facile a recepire. Allora, in questi ultimi dieci anni, diciamo così, qui in Italia sta succedendo qualcosa di veramente importante. Ovvero la consapevolezza dei cittadini, delle popolazioni, di poter decidere autonomamente del proprio futuro. Visto che si tende sempre al discorso della delega, a dire, eh, non tanto poi non serve a niente, ci pensano loro e via dicendo. Ci vogliono casi come questo, nel momento in cui ti arrivano e ti dicono, a scatola chiusa, devi per forza accettare questa, eh, quest'opera. Che tanto va bene così, lo dice il potere. Ecco. Allora, io mi chiedo, vediamo, vediamo che quello che accade qua è la stessa cosa che accade qualche centinaio di chilometri più là. Io faccio un esempio della terra Valsusa. Facciamo anche degli altri esempi, degli esempi di altri paesi dove ci sono delle devastazioni ambientali spaventose, vedi queste dighe ciclopiche in Africa, in America Latina, in Asia, no? E che portano degli sconquassi spaventosi da un punto di vista climatico. Anche perché, e perché no, anche i terremoti stessi vengono anche associati al fatto che magari ci sono delle dighe che, appunto, sconvolgono l'equilibrio geotetonico e quindi appengono i terremoti o vengono facilitati. Allora, e poi un'altra cosa, e sicuramente questa è estremamente importante. Questa è una guerra. Questa è una guerra. C'è una differenza sostanziale tra il fatto delle guerre guerreggiate in giro per il mondo da chi vuole portare la pace e la democrazia a quello che è il profitto pure semplice che viene portato qui da noi. ovvero sostituire, appunto, la democrazia e la libertà con il profitto. Quindi, ecco, il fatto che si deve associare, no, questa equazione con questo concetto semplice, no? Quindi, ecco, noi ci rendiamo anche conto dell'enormità di quello che sta succedendo nel mondo, no? Ecco, è una cosa che deve costantemente, costantemente si lanci, costantemente tenersi. Ma, però, come diceva prima Daniela, certo, non deve farci dimenticare anche il fatto di essere persone, di avere una nostra socialità, di vivere gioiosi, felici, perché la vita è bella, perché deve essere vissuta. Però noi dobbiamo essere consapevoli, assolutamente, che cercano di fregarci tutti i momenti, ogni giorno, e questo sempre di più. Quindi, ecco, vorrei, appunto, finire con questo auspicio. Cerchiamo di essere solidali, di essere uniti e di procedere verso un obiettivo comune. Grazie.